Al Teatro dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo Pino Zac, l'uomo, l'intellettuale, il creativo, dedicata a Giuseppe Zaccaria, in arte Pino Zac, uno dei più grandi fumettisti italiani di origine abruzzesi, morto a Fontecchio, in provincia dell'Aquila, il 25 agosto 1985. L'incontro è servito anche per ricordare il professore Pino Zac, docente di tecnica dell'animazione all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila dal 1971 al 1974. Com'è nata questa iniziativa? L'iniziativa è nata per valorizzare la storia dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e per cercare di aumentare l'offerta formativa e riuscire a far capire soprattutto agli studenti che sono affini alla storia di Pino Zac, cioè agli studenti di fumetto, che grande storia ha avuto per l'Accademia, per la vita culturale della città e più in generale del paese, l'attività di Pino Zac. In che modo può arricchire il percorso formativo di uno studente, la figura di Pino Zac? L'arricchisce perché ha avuto la capacità di cogliere attraverso le sue vignette e tutte le altre iniziative che lui ha portato avanti nella sua attività, quell'elemento di cogliere e di anche saper sintetizzare quello che avveniva attorno a lui, saper cogliere gli elementi anche contraddittori. All'interno del foyer del teatro è stata allestita una mostra di disegni realizzata dagli studenti del corso di arte del fumetto tenuto da Carmine di Giandomenico, accompagnata dal catalogo pubblicato dall'Accademia stessa.